Inizia proprio in questo momento, fischia per noi il signor Minelli della Cannes di Varese due le assistenti, due signorine, la signorina Carrovigno della sezione di Potenza e la signorina Cappello della sezione di Busto Arsizio. Stiamo ripartendo con questo calcio lungo ed è la terza volta che questo tipo di soluzione viene applicata, non esce Cintilla, poi il pallone che viene messo fuori dal colpo di testa di Munarini, clamoroso. Mella, bella la finta di Mella, la possibilità di andare sul fondo, cerca il taglio, poi un fallo abbastanza evidente. Traffico per il portiere, parte Duncan, palla alta. Adesso la serva, poi unta l'uomo uno contro quattro, il destro della serva, palla per Cintilla, comodo il portiere nero azzurro. Caritano può allargare su Duncan, poi sceglie Mella, bella opportunità per l'Inter, quando siamo arrivati al minuto 18, applausi da parte del pubblico. Il cross di Bandini è lungo, ci arriva Forte, ostacolato, poi un colpo di tacco a sorpresa, bravissimo, Forte tenendo la palla in area, entra in area e calcio di rigore. Calcio di rigore per l'Inter, bravissimo, Forte nel costruirsi questa occasione, ha fatto un colpo di tacco all'Ebraimovic. Lo rivediamo, guardate il calcio di rigore con Ambroise che è in ritardo sulla palla. Parte Duncan, Duncan, 1-0 per l'Inter, minuto 25, sblocca la sfida che grazie a un calcio di rigore è generato però il premio per questo calcio di rigore, lo diamo tutto a Forte che ha trasformato una palla di fatto che era uscita credendoci, lottando, andando sul pallone. Bandini il cross, lungo per Forte, esce bene il portiere della Chievo, poi Garitano, è 2-0 dell'Inter, Garitano esordio con gol con la maglia della primavera per il numero 8 nerazzurro. Dicevo che Garitano si è approfittato di una decisione, vedete il portiere esce però la palla che rimane lì, forse una decisione dell'estremo difensore, una palla messa fuori senza troppa vehemenza. Chievo, Cisotti entra in area, Cisotti il destro, Cisotti palla deviata, grande parata di Cincilla che poteva essere messo fuori causa. Allora il 5 che arriva da Spendolfer, c'è Garitano, sceglie la soluzione centrale con Terrani, subisce ancora fallo Terrani. Calcio di punizione in favore dell'Inter quando mancano due minuti alla fine del primo tempo. Inter che raddoppia la barriera come nel caso precedente, parte Bandini, il destro di Bandini, palla alta ma assolutamente interessante questa conclusione. Partito il secondo tempo con il fisco del tiro di gara, Duncan adesso bene per Mella, lo spazio Mella per entrare in area, Mella il cross, la palla che viene deviata dal portiere che in due tempi la fa sua, Terrani cerca il drivo di Terrani, gli riesce il destro di Terrani, la palla che viene deviata dal portiere dell'Echievo e termina in angolo, primo calcio d'angolo del secondo tempo. Ancora Duncan, la bandierina, gli è cross, il copo di testa, la palla che viene deviata, è stato forte a trovare la giusta proiezione offensiva. Adesso riparte bene la formazione Razzura con Terrani, che è una bella opportunità, Terrani lo scambio con Garitano, c'è forte, lo imbecca Garitano, molto bene il controllo di Forte, il sinistro di Forte, la grande parata di Coletta, ma che bella azione da parte dell'Inter in questa transizione. Garitano, un dribbling, ancora palla per Garitano, poi impeccato benissimo Terrani, stava per diventare pericolosissimo. Bravo una volta di più il portiere del Chievo Coletta, Garitano per Terrani, da solo in mezzo a quattro uomini, però le sue finte si liberano di un avversario, Bravo Terrani in questo caso può saltare un altro uomo. In mezzo c'è Duncan, un'altra finta di Terrani, grande azione, poi il destro, la palla che dà l'illusione della rete, deviata. Calcio d'angolo per l'Inter, calcio d'angolo per i neri azzurri, veloce il Chievo però nella ripartenza con Da Silva, Da Silva che ha l'opportunità per il destro, e il gol di Da Silva, una grande ripartenza da parte della Chievo, gol che non ci voleva perché eravamo sulla 2-0, stavamo controllando. Gesto tecnico da parte del brasiliano, guardate che mentre stava correndo già guardava la porta, aveva già visto forse la non corretta posizione di Cincilla che ci va con due mani, Mella di fronte a sé, Mella benissimo per Terrani, il controllo di Terrani, 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 e la palla è alta, clamoroso, la palla è alta, poi il destro, molto bello per Mella, Mella ha tutto lo spazio per andare sul fondo, controlla con il sinistro, bello il dribbin di Mella, il destro, il sinistro, la palla deviata dalla portiera, ma una grande parata ancora di Coletta. Adesso bello scambio con la Serva che ha lo spazio per andare a incidere, poi il tiro, la palla che esce fuori, la palla che esce fuori, la palla che esce fuori di pochissimo, ma che pericolo, che pericolo signori, Petrocchi, cerca ancora Kuban, palla che viene messa fuori da Chisela, adesso lo scambio, attenzione a Kirillov, il tiro deviato da Chisela, ma troppo, troppo, troppo leziosi in difesa. Che poco tempo per l'Inter, di raggiungere il 3-1, a mio avviso è sempre stato il risultato più giusto, adesso sta anche lentamente scendendo la sera, Duncan opportunità per il ganese, Duncan, l'Inter è tra in aria, Londo, 3-1 Inter, 3-1 Inter con il gol di Simone Longo, aveva detto ha un quarto d'ora per diventare determinante, lo è stato, anche se la ripartezza qui è stata orchestrata magnificamente da Duncan, ha visto qua il movimento del compagno e poi tre passi dopo lo appoggia, quando ormai è tagliato completamente fuori il difensore centrale del Chievo, Inter che raccoglie le 3-1, risultato a questo punto che rispecchia la sfida, comunque rimane aperta la gara di ritorno.